Di Fabio Morasca lunedì 30 aprile 2018 Nina Mori ci ha ufficializzato la fine della sua storia D'amore con Luigi Mario Favoloso, pubblicando un lungo messaggio sul proprio profilo ufficiale Instagram Con una serie di messaggi pubblicati nei giorni scorsi, la modella showgirl croata aveva già fatto intendere le proprie Intenzioni riguardo la relazione con l'imprenditore e modello napoletano, concorrente del grande fratello 15 Di seguito, trovate il messaggio integrale L'amore a volte perde, ma non è l'amore in sé a perdere, ma tutto ciò che c'è di cornice Ho perso la fiducia, mi hai mancato di rispetto e così abbiamo perso noi E mi piace pensare che forse Eravamo le persone giuste al momento momento sbagliato E avrai altre braccia che ti stringeranno, altri occhi che ti guarderanno, e conosceranno i tuoi punti deboli Mi mancheranno le nostre litigate, le nostre risate, le nostre passioni, le nostre conversazioni Mi mancheranno tanto i nostri viaggi mai scontati, la nostra Siria 4 anni pieni di sogni, svaniti in un attimo E tutto questo lo sto dicendo con amore Con tutto l'amore che ci siamo promessi ma tu ti sei dimenticato e hai perso Qui eravamo a Damasco, io ci tornerò perché lì Sai solo tu cosa abbiamo capito, che la felicità non è il successo e non sono i soldi Ciao Fabs, Nina Luigi Mario Favoloso è stato informato in diretta della decisione di Nina Moritz Durante la terza puntata serale del GF, ricordiamo che Favoloso, all'interno della casa, ha instaurato un feeling con Patrizia Bonetti che, ovviamente, non è passato inosservato Vota l'articolo, 4.00 su 5.00 basato su 11 voti I video del canale Donna